Ottimismo per i nuovi dati sulla pandemia. Crollano del 71% i ricoveri e del 65% le terapie intensive. Più di un terzo della popolazione con almeno una dose del vaccino. La fiducia nel paese torna ai livelli pre-covid. L'indice dei consumatori sale di oltre 8 punti. Quello delle imprese corre da 97,9 a 106,7. Conti in piena salute per il gruppo Grimaldi. Nonostante la pandemia, nel 2020 il patrimonio arriva a sfiorare i 4 miliardi. La flotta supera le 130 navi. Il ministro Enrico Giovannini riferisce alla Camera sulla tragedia del Montarone. Una ferita per il paese. Il bimbo sopravvissuto è stato estubato e respira da solo. E' scomparsa stamane ad 84 anni Carla Fracci, la Camera ardente allestita alla Scala di Milano. Il bimbo sopravvissuto è stato estubato e respira da solo.